buongiorno buongiorno a tutti siamo alla fine dell'anno consuntivo mercato della finestra invernale in entrata e in uscita se è possibile penso sia definitivo oggi oppure ci sarà qualcosa anche a gennaio ma allora dunque la conferenza stampa di fine anno e diciamo di fine mercato poi con le nuove regole il mercato è quasi sempre aperto e quindi fondamentalmente le ultime regolamentazioni che hanno portato al 5 gennaio 2024 la possibilità di trasferire giocatori che hanno rescisso il proprio rapporto contrattuale con le varie società e hanno la possibilità di ritesserarsi hanno posto questo limite per quanto riguarda i professionisti sappiamo tutti che c'è la possibilità per i giovani di serie di essere tesserati fino al 2 febbraio 2024 e di ritesserare calciatori professionisti che hanno disputato l'ultima gara 30 giorni prima quindi queste sono le regole sono sono abbastanza stringenti però ecco quindi il consuntivo è per diciamo parlare di fine mercato l'occasione di questa conferenza stampa è dovuta principalmente a fatto che il patron per motivi di salute non ha potuto salutare la stampa e la tifoseria dopo la partita con i montevarchi e adesso in vacanza e quindi ci sembrava giusto a livello societario fare un punto della situazione a 360 gradi quindi abbiamo deciso di aprirla anche alla tifoseria perché magari eh vederlo sul giornale vederlo sugli schermi o soprattutto vederlo su questi benedetti social che sapete non mi rimangono neanche particolarmente simpatici credo che il rapporto faccia a faccia sia un pochino sempre quello più verace più vivo e che permetta anche di risolvere qualche punto di vista differente perché poi nella massima serenità e nella massima educazione non è che si può andare tutti d'accordo quindi sono a completa disposizione per spiegare quelle che sono state le operazioni di mercato fatte dal Grosseto in questa sessione non è finita non è finita perché qualche cos'altro ancora cerchiamo però diciamo che eh ne sono state dette abbastanza no addirittura abbiamo sentito parlare di organico rivoluzionato e eh io direi che di organico rivoluzionato non non si può parlare perché mi sono appuntate perché sono abbastanza quelle che sono le uscite dell'organico che ha cominciato la stagione e vedrete che di rivoluzione forse ne possiamo parlare dal punto di vista numerico eh ma dal punto di vista dello zoccolo duro che ha composto il Grosseto nella prima parte di campionato vedrete che le operazioni di mercato sono state fatte tutte volte a migliorare questo organico e poi che ci si sia riusciti o meno questo come sempre il risponso lo dovremo dare al campo operazione in uscita ad oggi abbiamo fatto generali zero minuti giocati il ragazzo è del 2006 andrà in prestito alla Fiorentina a giocare con l'under 18 quindi credo che questo sia un bel successo per per la società per la piazza ragazzo da un fisico imponente che credo possa fare un tipo di percorso di carriera che giocando in una squadra professionistica nella seconda parte di campionato ritengo che gli si possano aprire degli scenari diversi barontini minuti giocati zero i la minuti giocati zero i chi minuti giocati 61 rotondo ora prima della ola o dell'ovo ve lo spiego dopo 75 minuti giocati guadalupo 78 minuti giocati gianassi 79 minuti giocati moscatelli 113 giuliani 168 e carannante 313 ora detti così sembrano numeri abbastanza freddi i minuti totali sono mille e 530 quindi direi che se noi sommiamo tutti questi minuti non viene fuori neanche un terzo dei minuti ha giocato marzierli questo per dire che abbiamo fatto delle operazioni di mercato in uscita per farne alcune in entrata e potessero a nostro avviso migliorare l'organico del grosseto per quanto riguarda gli arrivi abbiamo preso grasso che è un ragazzo del 2007 che negli ultimi tre anni ha fatto il professionista a bologna aveva smesso di giocare avete visto che tipo di fisico ha ha firmato un anno e mezzo di contratto con il grosseto il nostro obiettivo è quello di cercare di farlo diventare un portiere professionista perché credo che ne abbia tutte le caratteristiche l'avete visto stamattina nel secondo tempo dell'allenamento con giunto contro il belvedere scusate non è grasso scusate mi sono confuso poi abbiamo preso grasso che credo che sia un esterno in quota che possa dare una mano a questa squadra di più di quelli che sono andati via sia a livello qualitativo che a livello di minutaggio credo che su questo ci sia poco da dire abbiamo preso due difensori come russo e davi penso che per loro possa parlare il curriculum e la carriera addirittura per davi a pistoia ci sono state delle crociate insomma questo lo leggete anche sui social e sui saluti che fanno nella città di pistoia verso l'uomo e verso il calciatore e quindi ci auguriamo che a grosseto possa ripetere il tipo di percorso che ha fatto nella sua lunga carriera da professionista stesso di casi per russo abbiamo preso trati che arriverà con l'apertura della sessione di mercato perché naturalmente avevamo ancora da sostituire dal punto di vista numerico la rottura del legamento crociato di morelli è un calciatore che ha già avuto un'esperienza lo scorso anno in serie di ad aliana e di proprietà della fiorentina e quest'anno ha fatto la prima parte di serie in serie c a cerignola giocando l'ultima partita di campionato da titolare quindi questo è stato un piccolo imprevisto che ha rallentato un pochino le operazioni per poterlo portare però ce l'abbiamo fatta e oggi avete visto che ha giocato una parte di allenamento congiunto contro il belvedere e poi abbiamo preso romairone che ormai credo che sia un attaccante che possa dare una mano a questo organico queste sono le operazioni che abbiamo fatto ad oggi concludo parlando dell'operazione rotondo che va a san giovanni in prestito perché riteniamo che dopo l'infortunio allegamento dello scorso anno nel reparto offensivo del grosseto quest'anno lo spazio possa essere relativo e quindi il ragazzo avendo bisogno di giocare con continuità abbiamo deciso di mandarlo nella società che più ha garantito che potesse fare un minutaggio adeguato per poter ritornare a grosseto con più minuti giocati in cambio abbiamo preso un altro centrocampista che è Samuele Sacchini è un classe 2002 scuola fiorentina che riteniamo sia forse il giocatore più qualitativo della rosa della san giovannese visto che abbiamo tre centrocampisti completa il reparto di centrocampo poi che rimane da dire rimane da dire che con l'infortunio di giustarini che non sappiamo quella che è precisamente la data di rientro perché la frattura del perone porta una rieducazione sui quali tempi sono abbastanza indefiniti quindi la forbice potrebbe essere di rientro parlo per l'attività agonistica quindi per giocare una partita dal 15 febbraio al 15 di marzo probabilmente un'operazione nel reparto offensivo dovremo cercare di farla ancora e poi abbiamo finito rimane da commentare schiaroli perché tanto è quello che è quello che rimane questo bologna che hai preso questo giovane oppure no era era in prova era in prova esatto ma se appunto ci poteri chiarire la dinamica perché noi abbiamo scritto come sono andate le cose da lì voi hanno parlato di scippo ma no scippo non è stato no allora scippo eh gli scippi si fanno in banca di solito e spesso si viene anche arrestati quando eh quando ti beccano no è una scelta solo ed esclusivamente tecnica e direi che è anche una scelta solo ed esclusivamente mia e vi spiego perché l'ho fatta credo che questa squadra perché se si analizzano i numeri si dice secondo la seconda miglior difesa sesto attacco dice forse bisognava cambiare qualcosa all'attacco però come a calcio si gioca in 11 e con i cambi spesso in 16 in 17 in 18 se uno li analizza per reparto poi dopo bisogna mettere tutti gli ingredienti all'interno dell'insalata e vedere quello che viene fuori eh come ritengo che ci fosse la possibilità di prendere un giocatore di maggiore esperienza di maggiore personalità come Davi eh ho ritenuto di fare di fare questo cambio quindi non c'è nulla né dal punto di vista personale perché il ragazzo ha mantenuto sempre un comportamento eccellente da quando è arrivato è rimasto molto dispiaciuto da questa decisione però nel calcio sono cose che succedono e le decisioni spesso vanno prese eh per quanto riguarda il fatto che sia andato a Livorno e direi che è la stessa situazione dello scorso anno a parte invertite con Cretella eh io ritengo che non si possa fare come qualche consorella fatto di mandare via dei calciatori e decidere la destinazione per loro perché questo credo sia un fatto di correttezza nei confronti di chi si è comportato bene con noi la scelta del cambio di Schiaroli è soltanto a livello di esperienza io ritengo che Davi possa essere un giocatore che nella seconda parte di campionato eh sia più esperto e quindi possa dare eh quel tocco di personalità in più in determinati momenti delle le varie partite e ricordiamoci che il girone di ritorno eh è tutto un altro campionato non è un luogo comune non è una frase fatta e citando proprio l'ultimo esempio che magari ne abbiamo ancora negli occhi io sono convinto e mi auguro vivamente che la retroguardia del Grosseto non possa prendere gol come il due a due del Montevarchi alla vicina di Natale. E poi ci faresti un brevissimo tuo commento sul queste prime diciassette giornate quindi che tipo di bilancio tracci dell'andata e due parole sull'operato fin qui di mister Bonuccelli. Allora noi allora me compreso a volte eh se se si stila un bilancio di questo girone d'andata siamo si respira un po' di tristezza no? Mh nell'ambiente da io stesso lo lo percepisco lo avverto e forse mi ci sento anche dentro. Voi pensate che eh gli alibi nel calcio non non vanno chiamati in causa eh l'infortunio di Sabelli la partita di Livorno eh l'infortunio di Giustarini eh la clavicola di Sabelli cioè ne ne sono successi abbastanza nel girone d'andata come eventi avversi al Grosseto se risuccedono se dovessero risuccedere in questo numero anche nel girone di ritorno facciamo fatica a vincere il campionato eh però io credo che questa squadra e questo organico debbano essere superiori anche a queste cose quindi con tutto questo fardello che ci siamo portati dietro due pareggi nel cammino che abbiamo fatto trasformati in vittorie il Grosseto sarebbe primo e di conseguenza io credo che da lì bisogna ripartire cioè dal duemilaventiquattro il Grosseto si deve porre come obiettivo quello di recuperare i punti delle tre squadre che ci stanno davanti. L'altra grande favorita di questo campionato che è il Livorno è insieme a noi hanno avuto diverse vicissitudini anche loro in questo momento ci sono davanti eh due sorprese perché la Pianese e il Serravezza stanno facendo un campionato sicuramente uno scalino sopra a quelle che erano le loro aspettative e poi abbiamo due punti avanti il Gavorrano che sicuramente era una delle tre favorite insieme a noi se magari fosse l'espressione di una grande piazza come Grosseto e il Livorno sicuramente l'avremmo messa sul podio allo stesso livello nostro magari il Gavorrano paga eh il discorso della piazza però me recupera sicuramente in tranquillità e voi lo sapete perché sono stato 12 anni lì quindi se da una parte ogni tanto bisognava che spostassi le carte perché eh se non l'ambiente era troppo tranquillo sicuramente quando c'è qualche momento di difficoltà eh la portata di Grosseto o di Livorno a Gavorrano sicuramente non la si avverte. La seconda domanda eh ti rispondo molto volentieri perché anche su questo argomento ne abbiamo sentite lette di ogni. Allora eh buon uccelli è la terza volta che eh abbiamo la fortuna secondo me di lavorare insieme e di collaborare. Le altre due volte l'ho esonerato così perlomeno si sgombra il campo da sono troppo amici l'amicizia no sì è un mio amico questo sicuramente ma l'ho diventato nel corso degli anni e ne conosco pregi e difetti credo più di ogni altro. Di conseguenza se eh dobbiamo sempre ribadire il fatto che riteniamo che buon uccelli sia l'allenatore giusto per cercare di raggiungere l'obiettivo che si è posto il Grosseto un motivo ci sarà perché le altre due volte non è che era meno amico mio di questo momento. Le altre due volte c'erano delle situazioni tali perché abbiamo optato per il cambio di allenatore. In questo momento e sono sicuro fino al termine di questo percorso la società richiede che buon uccelli sia l'allenatore giusto per portare avanti il progetto Grosseto quindi abbiamo preso questa decisione. Quindi sul lavoro ha sicuramente commesso degli errori come ne ho commessi io in fase di costruzione della squadra anche se non abbiamo cambiato molto perché abbiamo cambiato un calciatore che è lo zoccolo che ha composto il Grosseto fino a questo momento. Parlo dei calciatori titolari e eh ne hanno ne ha commessi la squadra perché probabilmente è una squadra che con quindici giocatori nuovi sicuramente ha bisogno di un periodo di assestamento e di assemblaggio superiore a Gavorrano dove ci sono per esempio sette otto giocatori che giocano insieme da cinque o sei anni. Ma questo non è soltanto a Grosseto o nel girone di serie D, è proprio la storia del calcio che lo insegna. Direttore buongiorno. Tra i dati dei minuti giocati che ha citato manca forse la fetta più grossa, quella appunto di Schiaroli che ha giocato complessivamente tra Coppa e Campionato diciotto partite. Praticamente quando non è stato squalificato ha giocato sempre. Quindi le volevo chiedere dal punto di vista di Schiaroli, lei ha detto se ha assunto completamente la responsabilità. Con il tecnico ha parlato e che cosa ha detto il tecnico visto che probabilmente la comunicazione è stata unilaterale. Cioè lei ha detto a Bonuccelli ho deciso questa cosa qui, che cosa ne pensa lei. L'altra domanda che le voglio fare riguarda invece un altro tra virgolette errore, anche se giustamente lei l'ha escluso, che è quello di Picchi che è durato in Maremma meno di mezza stagione praticamente. Grazie. Allora, la prima domanda è magari insomma quello che ne pensa Bonuccelli la fatta a lui alla prossima conferenza stampa, ma rispondo quello che è stato il confronto. Come io conosco lui, lui conosce me e sa che quando siamo arrivati a quel tipo di processo e indietro non si torna. Quindi ci siamo parlati la Virgenia di Natale, ha detto e tanto hai deciso di farlo, quindi farlo. E ancora non ne avevamo da via, quindi nel senso è ovvio che fortunatamente c'è stata la possibilità di unire i due processi perché altrimenti non l'avremmo fatta. Ma certamente se non avessi trovato o avessi ritenuto di sostituire Schiaroli con un calciatore con un bagaglio di esperienza e con un currico diverso, l'operazione non l'avremmo fatta. Quindi quando prima Iuri parlava di scippo, io e il Tirreno di Livorno sono simpatici, sono tifosi del Livorno. Giustamente mi auguro che la redazione del Tirreno grossetana sia tifosa del grosseto, quindi scippato, non hanno scippato nessuno perché Schiaroli ha deciso il contratto e il grosseto ha deciso di farlo. Seconda domanda è picchi. Allora picchi probabilmente è un discorso di ruolo, se si ricorda bene abbiamo preso picchi da svincolato nel momento in cui l'infortunio di Petella sembrava molto più serio del previsto, mentre invece poi era soltanto un affaticamento, mentre c'era Benzaia che ancora stava rientrando però le condizioni fisiche non erano all'altezza e c'era Sabelli con la clavicola rotta. Quindi abbiamo preso picchi in quel momento per quel determinato tipo di bisogno. Sfortuna ha voluto che si sia stirato nella partita contro l'Ardea e di conseguenza poi nel momento in cui rientrava abbiamo pensato di optare per un altro tipo di scelta. Tifosi, hanno finito la stampa. La stampa? Ragazzi guardatemi tutti. Allora la mia è una domanda forse anche banale proprio per parlare di mercato. Siccome come tifosi almeno parecchi che siamo visti sono viste tutte le partite e si è visto che questa squadra è Marzierli dipendente, non ha un piano B. Quindi nel mercato è previsto qualcuno che nell'ipotesi più remota e questo ci dovesse avere due giorni di squalifica, questa squadra non mi sembra che ci abbia molte alternative a parte la palla messa nell'aria e questo è un fenomeno. Quindi ecco volevo sapere se come è il mercato oppure se c'è un altro modulo di gioco. Io questo non lo so. Allora Lamberto, non sei stato attento all'inizio della conferenza stampa perché Paolo ha detto una conferenza stampa di fine mercato e io ho detto non è finita perché dobbiamo sostituire Arcuri almeno dal punto di vista numerico nell'ambito delle quote perché è stirato, avrà un mese di tempo e quindi ne abbiamo solo tre di ruolo con Aprile che fa un po' il jolly di tutta la situazione. Aprile fa il jolly di tutte le situazioni perché è uno dei calciatori under più forti che abbia mai avuto e di conseguenza siamo nella parte del bicchiere mezzo pieno perché a volte quando si parla di giocatori fa quello fa quell'altro e solitamente fanno poco bene tutto. Noi abbiamo la fortuna di avere Aprile che è un 2004 che può fare l'esterno, il braccetto di difesa e il centrocampista che peraltro sarebbe il ruolo che predilige lui e che gli piace di più e di conseguenza però dal punto di vista numerico lì bisogna intervenire. E poi te lo sei detto da te perché il reparto offensivo in questo momento vive di Marzieri per le caratteristiche sia tecniche e fisiche che conosciamo tutti. Romairone, Rinaldini, Enrico Bono. Rotondo va a San Giovanni, Giustarini rientra fra il 15 di febbraio e il 15 di marzo quindi quando dicevo non è finita a quello mi riferivo. Buongiorno Filippo. Allora una delle domande che ci poniamo più tutti quanti perché tutto sommato siamo soddisfatti, viaggiamo nelle prime 3, 4, 5 posizioni però da quello che erano stati i proclami e quello lì che abbiamo visto in montagna diciamo che la squadra poi non si è espressa con un bel calcio noi non abbiamo il patentino di Coverciano però sulle tribune in curva non è che vediamo delle partitone spesso e volentieri i ragazzi li vediamo con poca gamba, poca cattiveria, non esprimono un grande gioco palla al piede si vedono poche azioni quindi più che parlare dello specifico dei calciatori che questo magari lo dovremmo fare con l'italiano che è più il tecnico a livello di visione di calcio penso che anche tu non sia soddisfattissimo ecco lì c'è qualche cosa in previsione oppure dobbiamo continuare in questi livelli? Hai detto una cosa perché poi se si apre le conferenze stampa ai tifosi bisogna anche aprirsi completamente e dire la verità giochiamo peggio di quello che ci aspettavamo su questo non c'è alcun dubbio le squadre di Bonuccelli indipendentemente dalla qualità dei singoli giocatori perché poi se no sarebbe troppo semplice hanno sempre espresso un gioco come dicevi giustamente te nelle amichevoli, in Coppa Italia, le prime partite di campionato su questo bisogna lavorare probabilmente è una squadra più solida e bella e un pochino in controtendenza con quello che ci aspettavamo è naturale che l'obiettivo è quello di migliorare anche da quel punto di vista quello lo vediamo anche noi, ci mancherebbe altro ma ti ripeto aggiungere potenziale, qualità potenziale, qualità a questa squadra ti dico la verità perché Rinaldini, Riccobono, Benzaia cioè bisogna come dico io nel caso di Schiaroli bisogna guardare quelli che si ha in casa analizzare bene e poi dicendo ma mi è andata a Livorno questo per dimostrare che non è che il lavoro che era stato fatto era stato fatto a caso però tutte le operazioni di mercato che abbiamo fatto e anche le ultime due una si parla di una quota l'altra non ve lo sto a dettagliare ma anche perché al momento l'operazione Rotondo è avvenuta nelle ultime ore quindi non ci avevamo neanche pensato perché il naturale sostituto fra virgolette di Marzielli pensavamo che fosse Rotondo quando c'è stata la possibilità di fare questo scambio con la San Giovannese che garantisce a Rotondo un minutaggio superiore rispetto a quello che potrebbe fare nella seconda parte di campionata Grosseto c'è stata la possibilità di prendere un giovane anche se over dal punto di vista anagrafico come Sacchini di conseguenza siamo rimasti scoperti con questa casella che è l'obiettivo di mercato per concludere la sessione allora se abbiamo finito vi ringrazio a tutti auguri a tutti e sempre forza Grosseto